Ed in chiusura ci occupiamo del campionato di basket nazionale Serie B finalmente per il Lions Basket Biceglie e arrivata la prima vittoria della stagione, sia pure in turno infrasettimanale. I Leoni, allenati da Gigi Marinelli al termine di una sopperta partita, hanno battuto con il punteggio di 94-77 il Ruvo di Puglia, riscattando così la deludente prestazione di domenica scorsa contro il Nardò dove i Salentini avevano vinti. Adesso testa al prossimo turno di campionato che non sarà agevole per i ragazzi di Gigi Marinelli in quanto saranno impegnati nella trasferta di Salerno. Per il momento è tutto per questa edizione di Nuovo Giorno. Vi ricordiamo che alle 13 ci sarà l'appuntamento con Attuto Volley, la rubrica di speciale News Web 24 dedicata alla pallavolo. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, come sempre con il flash di metà giornata. A dopo, grazie per l'ascolto.